oggi parliamo di bootleg allora ragazzi bentornati sul canale, benvenuti ai nuovi vedo che giorno dopo giorno aumentano gli iscritti e non può che farmi piacere vi ringrazio tutti indistintamente i commenti che mi lasciate sotto sono sempre ben graditi perché così mi aiutate con i vostri consigli a fare sempre meglio oggi voglio parlarvi di bootleg mi è capitato un bootleg molto particolare tra le mani eccolo qui è un bootleg dei genesis e volevo portare a vostra conoscenza questo disco curioso perché allora innanzitutto che cos'è un bootleg? io ero un bootleggaro qualche anno fa nel senso che comunque essendo un fan sfegatato dei dream theater all'epoca ci scambiavamo i cd i bootleg, le registrazioni bootleg di quasi tutti i concerti di tutte le tappe avrò migliaia di registrazioni in cd però non sapevo cioè lo sapevo però non mi passava per la testa il fatto che comunque ci potevano essere bootleg anche in vinile cosa molto affascinante infatti ne sto reperendo qualcuno qua e là ovviamente di band degli anni passati perché i band come i dream theater ovviamente le registrazioni sono a livello di cd si registrava il concerto poi si riversava si faceva la masterizzazione e facevamo girare questi cd ovviamente sono registrazioni non ufficiali il bootleg nasce come una registrazione appunto o da pubblico quindi qualcuno del pubblico che registra il concerto e quindi senti anche le voci di chi sta di fianco oppure un po' più professionale tipo dal mixer e poi viene distribuita anche se non in maniera ufficiale quindi diventano degli unofficial quindi comunque il bootleg per un fan di quella band sicuramente diventa un oggetto ricercato è prezioso da avere perché perché quando siamo fan accaniti di quella band vogliamo avere di tutto e di più quindi qualsiasi cosa loro fanno su un palco noi la vogliamo avere ecco il bootleg nasce per questo il primo bootleg mi informavo poc'anzi nacque addirittura nel 1969 fu proprio un vinile di alcune registrazioni di Bob Dylan di tanti tanti anni fa quindi questo mondo affascinante del bootleg che amplia le nostre conoscenze a riguardo di una o dell'altra band ci aiuta ad allargare il nostro bagaglio culturale mi capita casualmente questo disco tra le mani e si intitola there is still time to wash away the past ovvero è arrivato il momento di lavarsi, di scrollarsi via di dosso il passato insomma con questa foto della band risalente sicuramente al 72 suppongo perché penso che sia l'epoca in cui andarono nella tv belga in quel video che gira sul tubo dell'esibizione che fecero per quella tv in belgio vado a occhio è ma più o meno penso che il look sia quello peter gabriel ha ancora i capelli lunghi non si è ancora rasato sulla fronte quindi penso sia quel periodo lì comunque il disco ha una copertina totalmente nera poi ci hanno messo un foglio sopra quindi è proprio appiccicato questo foglio qui che gira anche da quest'altra parte termina qui e qui ci sono i testi e ci sono i crediti qui dice Genesis at their best side one, side two ci sono le song che sono state registrate tra l'altro in punti diversi, in anni diversi quindi adesso le andremo a vedere una per uno production by Tarzan che sarebbe il butlegaro diciamo colui che ha registrato mix at that jungle studio artwork insomma tutti i crediti di come è nato questo disco ovviamente non ufficiale leggo qui anche i ringraziamenti e poi sotto c'è your copies number qui doveva esserci un numeretto perché all'inizio uscirono numerate fino a mille quindi questa è la vostra copia numero il numero della copia di mille una volta superata la cifra delle mille copie poi il numerino non c'era più quindi era sicuramente un pezzo da collezione numerato fino a mille riesco ad avere notizie su questo disco grazie a questo numeretto qui a questo numero di matrice STMP002 quindi sono andato su Discogs e mi sono informato per sapere di cosa si trattasse infatti quando mi è arrivato avevo zero notizie in merito e su Discogs riesco a capire di cosa stiamo parlando praticamente è un unofficial che riprende varie registrazioni da vari concerti ora la tracklist è di tre song nel lato A e tre song nel lato B e abbiamo Stagnation The Fontaine of Salmasis Harold Barrel I Know What I Like Get Them Out By Friday e The Lamia le registrazioni provengono da Watford nel 1972 quindi suppongo sia Stagnation poi abbiamo Roma Palaeur 22 gennaio 1973 abbiamo da quel concerto The Fontaine of Salmasis sono sicuro di questo perché questo concerto tutto il concerto audio quindi la registrazione quindi anche in quel caso il bootleg di tutto il concerto del 22 gennaio 1973 lo trovate sul tubo confrontando The Fontaine of Salmasis da quel concerto con questa che ho io è la stessa registrazione perché si sentono le voci sotto uguali quindi sicuramente quella canzone viene da Roma poi abbiamo registrazioni da Londra del 74 da Montreal e da Providence sempre del 74 quindi un po' diciamo un mix di concerti che vanno dal 72 al 74 insomma l'epoca in cui i Genesis erano all'apice ecco perché dietro c'è scritto evidentemente Genesis at their best nel loro miglior momento qui abbiamo la scritta che non è possibile venderla perché ovviamente i bootleg non sono ufficiali quindi ne è vietata la vendita però come ben sappiamo c'è un giro di vendite anche per quelli c'è sempre stato insomma nessuno regala niente vabbè comunque in ogni caso sicuramente un pezzo da avere in collezione per chi ama i Genesis come me è sempre bello ascoltare le registrazioni che ti fanno sentire lì in quel momento qualcuno mi diceva sul post che ho pubblicato su Facebook a riguardo di questo disco che si sente malissimo sì non si sente bene perché è una registrazione da audience cioè qualcuno ha registrato dal pubblico quindi non proviene dal mixer non è una registrazione professionale però non è un disco da ascoltare così è un disco più che altro da contemplare cioè nel senso che quando ascolti quelle tracce anche se si sentono male però comunque ti fanno sentire quell'emozione ecco il bootleg è proprio questo è l'emozione di stare lì di come se tu fossi lì nel pubblico e puoi condividere quella sensazione come se i Genesis fossero lì sul palco cosa che è bellissimo perché stiamo parlando degli anni 70 quindi qualcosa che ti fa tornare indietro nel tempo ecco per esempio quando andavamo a vedere i concerti del Dream Theater e c'eravamo noi stessi lì poi quando cercavi il bootleg di quella serata era qualcosa di meraviglioso perché comunque c'eri anche tu lì in mezzo quindi era ancora più amplificata la sensazione che ti poteva dare ascoltare quel cd in quel caso in questo caso invece abbiamo il vinile e possiamo sentirci parte di quel pubblico di quell'epoca con quei concerti lì in quell'epoca stavo appunto dicendo il fatto della fotografia che poteva risalire sicuramente al 72 così prima dell'esibizione in quella tv belga poi Peter inizia a esplodere la sua arte inizia a venire fuori con i suoi travestimenti ruba la scena diventa protagonista assoluto di questo teatro che si porta avanti come se fosse una compagnia teatrale che ogni volta che fa un concerto mette in opera non solo la musica di livelli altissimi con musicisti di questo calibro ma anche la rappresentazione teatrale proprio ecco il bello dei Genesis era proprio quello quindi inizia con i travestimenti i primi travestimenti si vedono proprio lì in quel concerto di Roma adesso non abbiamo video quindi solo chi c'è stato il 22 gennaio del 73 può dircelo però erano i primi tempi perché qualche giorno prima erano stati a Reggio Emilia e si legge da qualche parte che aveva già indossato un costume il costume era quello rosso con la faccia da volpe perché stiamo parlando del Foxtrot Tour cosa che però possiamo vedere a video nella registrazione ufficiale in questo caso perché è stata restaurata dagli archivi dei Genesis del Bataclan di Parì ecco lì possiamo vedere il primo assoluto travestimento di Peter che si presenta sul palco con la vestaglia rossa che aveva rubato alla sua signora la volpe di Foxtrot con questa maschera in testa con la testa di volpe e da lì poi parte tutta una serie di travestimenti che si perfezionano nel tempo e diventano qualcosa di magico andare a vedere i concerti dei Genesis appunto era magia ecco perché ascoltare un bootleg come questo ti fa sentire parte del pubblico se chiudi gli occhi è come se vedi i tuoi beniamini sul palco bene questa era una piccola parentesi che volevo fare perché stavamo parlando dei Genesis avevo iniziato anzi vi lascio qui il link per andare a vedere tutte le puntate perché avevo iniziato a fare per ogni disco dei Genesis una puntata quindi a partire da From Genesis to Revelation Trespass Nursery Crime Foxtrot eravamo arrivati a Foxtrot sì dovevo andare avanti quindi adesso con questa piccola puntata riprendiamo il discorso Genesis e sicuramente lo proseguiremo perché poi abbiamo Selling England e poi abbiamo nel 1974 The Lamb appunto l'apice della rappresentazione teaterale dove lì Peter questo personaggio Rael che poi alla fine non è altro che un concept autobiografico diciamo in grandi linee ma ovviamente non ne parliamo oggi perché ci vuole una puntata dedicata a parte qui solo per dirvi una The Lemia è ripresa appunto da da quel disco del 74 e chiude questo bootleg The Lemia quando Rael vede queste immagini delle tre Lamia Lemia ne viene attratto anche se è consapevole del fatto che comunque loro lo lo vorranno uccidere insomma i Genesis sono letteratura applicata alla musica o musica applicata alla letteratura insomma viceversa come volete qualcosa di livelli alti che io certe volte scherzando dico quando quando scrivo sui post su facebook perché poi devo rompere il cazzo ogni tanto lo devo fare e dico queste cose dovrebbero studiarle nelle scuole insomma vabbè però un briciolo di verità c'è perché ascoltare musica di questi livelli come non solo i Genesis anche altri di cui abbiamo sempre parlato sul canale perché dico sempre musica con la M maiuscola appunto per questo perché questo tipo di musica ha davvero tanta roba da dire c'è tanta cultura non solo musicale non solo di scale musicali e di controtempi di tempi dispari perché sappiamo quel prog il prog comunque fatto di musica difficile e affascinante al tempo stesso ma c'è anche tanta roba nei testi quindi ecco questo voglio spingere sempre sul canale quindi se vi piace questo tipo di musica mi trovate qua se non siete iscritti al canale fatelo fate girare questi video fate iscrivere anche i vostri amici se sono appassionati di un certo tipo di musica io per oggi vi saluto vi ringrazio come sempre vi do appuntamento alla prossima e ci saranno delle belle novità perché comunque il canale sta prendendo piede finalmente dopo 300 video pubblicati finalmente mi avete notato quindi sono qua a disposizione per parlare di musica insieme a voi e condividere la nostra passione un grande saluto vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima ciao da Domenico Vasile e buon prog check the mic and make sure it sound right boys e buon prog